Ispirati dai cartelli che si vedono solitamente nelle note località turistiche balneari, i ragazzi del Servizio Civile di Piaggine, su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata da Guglielmo Vairo e dei gestori della pagina Facebook La Montagna del Cilento, hanno realizzato dei coloratissimi cartelli che indicano i luoghi più belli da visitare sull'intero territorio comunale, un'installazione in legno con le tabelle realizzate con materiale di recupero che è stata posizionata all'ingresso del paese in cui sono indicate le più belle località turistiche di Piaggine da visitare e da scoprire a piedi, a cavallo o in bicicletta, cartelli incentrati sulle attrattive e sulle peculiarità del territorio con tanti luoghi che sono già noti come il Monte Cervati con il quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni raggiunge il suo punto più alto e altri meno conosciuti ma che rievocano leggende popolari che sfidano i secoli, affondando le proprie radici nella tradizione orale, come le sorgenti del calore che ospitano una struttura risalente al periodo fascista o la trincea dei briganti. I ragazzi del servizio civile hanno realizzato questo lavoro con grande entusiasmo e con la consapevolezza di fare qualcosa di utile per il proprio paese, per diffondere e condividere la conoscenza di questi luoghi. Nei giorni scorsi è stata inoltre completata anche la segnaletica che conduce al meraviglioso arco naturale, una delle attrattive che suscita più stupore. Si tratta di un gigante di roccia nascosto tra le fronde degli alberi, scolpito dall'acqua nel corso dei millenni. È posizionato non troppo lontano dalla strada, eppure sono in pochi ad averlo visto dal vivo. Ora dunque sarà più semplice visitarlo, grazie alle indicazioni e al sentiero pulito e segnato dagli stessi ragazzi del servizio civile e dal rifugio Cervati.